Valutiamo positivamente l'attenzione dimostrata dal commissario straordinario alla peste suina africana Vincenzo Caputo per contenere il diffondersi della malattia tra i capi. Così il presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti, dopo l'incontro con il commissario Caputo avvenuto nella sede regionale a Catanzaro e che aggiunge, riteniamo particolarmente utile una delle sue iniziative annunciate. Si tratta dell'utilizzo dell'esercito sui territori anche calabresi per ridurre la presenza di cinghiali, una presenza eccessiva che ormai sta mettendo a rischio non solo le culture e conseguentemente l'economia locale, ma anche l'incolumità pubblica. Si moltiplicano infatti, racconta il leader di Confagricoltura, le segnalazioni di animali che hanno invaso fino anche arterie stradali e viadotti in Calabria con evidenti pericoli per la circolazione di mezzi pubblici e privati, sempre più a rischio incidenti stradali. Senza contare che l'aggressività dimostrata dai capi diviene elemento di pericolo per i cittadini che hanno la sfortuna di incontrare branchi di cinghiali nel loro percorso. Sotto questo profilo, la presenza eccessiva di animali può compromettere anche la filiera turistica legata ai percorsi naturalistici, dove è sempre più facile imbattersi in cinghiali. Ma l'impatto è rilevante soprattutto per le filiere agricole che subiscono ormai quotidianamente danni consistenti per il passaggio sempre maggiore di cinghiali su terreni agricoli ed azienda, senza dimenticare il rischio di diffusione delle malattie, tra cui la peste suina, di cui questi animali rappresentano i maggiori vettori. Per questo, conclude Statti, auspichiamo assieme ad altri provvedimenti l'impiego immediato degli uomini del nostro esercito per contenere la presenza ormai divenuta asfissiante dei cinghiali sui nostri territori.